Un saluto a tutti gli amici del canale di Youtube e a tutti i campanari, oggi mi trovo davanti al cimitero, oggi è 2 novembre, davanti al cimitero di Sant'Angelo in Grotte e tra poco ascolteremo il suono di questa campanella in ceppata slancio che viene suonata solamente il 2 novembre, fu usata da Marinelli, non sappiamo in che anno Bene, da Sant'Angelo in Grotte, dal cimitero è tutto, un saluto e alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti